La Platform Governance è un'iniziativa SaaS che ha lo scopo di mettere a disposizione dei nostri clienti un approccio strategico e strutturato mirato a garantire il corretto funzionamento delle piattaforme SaaS utilizzate dai nostri clienti per eseguire e raggiungere i propri obiettivi di business. Non solo, oltre agli aspetti veramente tecnici e di amministrazione è fondamentale per SaaS garantire il ritorno dall'investimento attraverso l'indirizzamento di tutti quelli che sono i processi, i ruoli e le attività di operation necessarie per gestire gli ambienti SaaS di produzione. È importante la Platform Governance e la governance delle piattaforme SaaS in generale per riuscire a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi che i nostri clienti si pongono attraverso l'utilizzo della piattaforma SaaS. Una piattaforma SaaS governata garantisce continuità e il raggiungimento di questi obiettivi. Vogliamo assicurare ai nostri clienti il ritorno dagli investimenti e fare in modo che gli utenti di business ottengano il valore aggiunto dall'utilizzo dei nostri prodotti. Attraverso la Platform Governance possiamo garantire ai nostri clienti un ambiente SaaS di produzione governato che quindi non avrà possibilità di failure e ritardi nell'esecuzione dei processi. SaaS propone per questo un approccio strategico, strutturato e personalizzabile. Mette a disposizione un package disegnabile sulle esigenze specifiche di ciascun cliente. A seguito di un piccolo assessment vengono individuate le azioni e le tempistiche migliori per mettere in pratica tutte le operazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento delle piattaforme. Oltre all'enablement, SaaS offre un servizio a pagamento che si chiama Premium Support. Attraverso il Premium Support offriamo al cliente la possibilità innanzitutto di implementare tutte quelle che sono le best practices di prevenzione e gestione degli ambienti SaaS di produzione, ma anche di mettere in essere tutto ciò che è necessario per un intervento tempestivo e risolutivo alle eventuali problematiche o inefficienze del software.